Sulla fascia sinistra del Genoa abbiamo rivisto Luca Antonelli che conoscevamo qui a Parma, dopo un periodo insomma anche un po' di sfortuna. Sì, l'anno scorso è passato un anno allucinante, mi sono fatto male quattro volte, quest'anno è cominciato bene, la stiamo facendo bene, abbiamo fatto un'ottima partita contro un ottimo Parma. Volevamo portare a casa i tre punti, però purtroppo abbiamo preso pari traversi, però il pareggio è il risultato giusto. Il pareggio è il risultato giusto, è questo? Sì, secondo me sì, il pareggio è il risultato giusto, anche il Parma ha fatto una buonissima partita, ha grandissimi campioni, quindi siamo contenti di questo punto. Però per un tempo e mezzo avete avuto sopravvento territoriale anche dal punto di vista delle occasioni, poi il Parma è cresciuto nel finale, avete trovato una squadra un po' in difficoltà soprattutto nel primo tempo? No, noi sicuramente stiamo bene, abbiamo fatto quattro punti con Juve e Lazio, se non stai bene è dura a farlo, quindi siamo venuti qua cercando di portare a casa i tre punti, però andavamo anche io. Secondo me è un ottimo Parma, quindi è un punto da benissimo. Questa fascia da capitano? Eh, perché mancava Marco Rossi e Moretti, ha detto il ministro di riunione, fa piacere, è sviluppato per l'anno che ho passato l'anno scorso, quindi sono contentissimo.